Lorenzo Casetti, ieri siete tornati finalmente a giocare con 6 difensori dopo qualche settimana in cui avete giocato a 5, sicuramente c'è stato un grande dispendio di energie. Sì, sicuramente quello ha influito, sicuramente è divertente girare a 5 se hai un po' più ritmo ghiaccio, però fai tanta fatica soprattutto in determinate partite, se sei sempre lì che rincorri rincorri rincorri, l'energia ne va via tante, adesso siamo di nuovo 6 e va decisamente meglio, speriamo di tornare a 7 il prima possibile. Domani una sfida importante contro il Val Posteria, una delle squadre rivali dell'Asia. Phil Beaulieu, come è stato tornato bene dopo l'injury? Siamo stati davvero, mi piacciono davvero a essere fuori. Un maledio ma ho avuto un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di ieri che ho fatto un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. È stato divertente ad andare sull'altra parte dei due codici e di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. Siamo iniziati a fare con il Val Posteria. Ci sono una grande ruota tra i due team. Come si è avvenuto il gioco? Oh yeah, ogni time you play another team in Italy it's a lot of fun and we're definitely looking to prove a point still here and go out there and play really good tomorrow night and work together as a team and it's going to be fun